Altri otto giorni per decidere il destino del Como, che ottenuto il rinvio richiesto al giudice, ora dovrà correre per produrre i documenti necessari. La nuova udienza sull'istanza di fallimento avanzata dalla Procura è fissata per giovedì 21 luglio alle 10, ma entro lunedì 18 dovrà essere consegnata tutta la documentazione. Questa è la decisione del giudice Marco Mancini dopo un'ora di udienza al quarto piano del Palazzo di Giustizia Comasco. Accolta dunque la richiesta di rinvio del Como, nonostante l'opposizione della Procura, che mantiene forti perplessità sullo stato di insolvenza del club. Difficoltà economiche comuni a tutte le società di calcio avrebbe sostenuto la difesa del Como, che intanto avrebbe pagato i 120.000 euro che aspettavano a una banca per il mutuo sul centro sportivo di Orsenigo. La difesa del Como inoltre avrebbe ribadito il piano di rientro con i debitori, fondato sui soldi che ancora devono arrivare nelle casse di via Sinigaglia. Oggi dunque niente aver detto, tutto rinviato al 21 luglio. Poca voglia di parlare all'uscita per il presidente Pietro Porro, presente con i legali del Como all'udienza. Dopo l'iniziale no comment, in realtà il patrono si è detto ottimista, ricordando anche i documenti ricevuti oggi dalla Federcalcio, con il Como ufficialmente iscritto al prossimo campionato di Lega Pro. In particolare, fa sapere il calcio Como, la Covisoc, Commissione Vigilanza Società di Calcio, evidenzia di aver riscontrato il rispetto dei criteri legali ed economico-finanziari, dei criteri infrastrutturali e di quelli sportivo organizzativi previsti per l'ottenimento della licenza nazionale ai fini della missione al campionato professionistico di competenza. Oggi è arrivata la decisione della Covisoc di iscriverle regolamente il calcio Como al campionato, quindi siamo iscritti al campionato di Lega Pro. Lei esce da questa udienza come? Come sono entrato? Tranquillo. Sono entrato tranquillo, esco tranquillo. Sì, ottimista, certo, ripeto, la considerazione è sempre la stessa, siamo persone serie, vogliamo salvare il calcio Como, andiamo avanti.